Ad Agropoli il mercato del giovedì può essere considerato come tradizione e abitudine dei cittadini. Ogni settimana numerose persone accorrono per acquistare cose di ogni genere, ma ultimamente il meteo sta mettendo a dura prova questa tradizione. Infatti è da numerosi giovedì che la pioggia è sempre presente e mette in grandissima difficoltà sia gli agropolesi che vanno nella nuova zona mercatale per acquistare, sia i commercianti che il giovedì vengono a guadagnarsi da vivere. Con la pioggia in generale è una situazione meteorologica pessima, risulta praticamente impossibile fare il mercato, in quanto ogni giovedì tante persone vanno via a causa della pioggia e i commercianti perdono molti potenziali acquirenti. Le lamentele degli agropolesi non mancano, infatti sui social sono cominciate ad apparire le prime richieste dei cittadini verso l'amministrazione al fine di trovare una soluzione a questa situazione di disagio che ormai ogni settimana colpiscono il mercato del giovedì. Ieri tutti si lamentavano e i commercianti erano abiliti, coperti a malapena con un cappuccio della felpa e con impermeabili improvvisati. A questo punto chiedo, avendo ad Agropoli un unico mercato settimanale, non sarebbe possibile creare una tettoia come quella del mercato della frutta in via Chili? Queste sono le parole di una cittadina che inquadrano a pieno la situazione che gli agropolesi e i commercianti si trovano ad affrontare ogni settimana e a questo punto tutti i cittadini vogliono sapere dal sindaco Coppola e da tutta l'amministrazione comunale se è fattibile o no la realizzazione di una tettoia nella nuova area mercatale al fine di eliminare questa situazione di disagio.